L'istoria del Fenuliedes è estrello ben ligato alla dell'Aicurbieros, dei relevos escalabrussi che favorizzano tutte le strategie di defenza e accodano per l'antichità. L'edame Gianno è un periodo clave per il Fenuliedes, promulgute bicuntate all'enturre del segle XI, a questo spazio è sacerbo la passione e passano giù l'autorità successiva dei differenze anni al biais dell'Aicurbieros Vesinos. A tal, alla fine del segle XII, mentre che i contati di Cerdano e di Rossellino sono giù l'autorità dei conti di Barcellona, il Fenuliedes appartiene all'Airal del Lengodoc, un obirato nuovo superato in 1209, quando il Papa Inus XIII lancia la cruzata contro gli ereggi scatari. La vicuntate del Fenuliedes si trovo al coro delle strategie militari e politiche. L'orei Louis VIII, di Francia, la confisca in abril di 1226 a abo di Fenuliedes per fai di men, e l'affiso al segno di Rossellino lo contenu non sans. Pammain, lo tribolum continuo. Le Fenuliedes, che proteggis la fortalezza dei Keribus, resistis, e ben un don dell'ai d'arriero zonos dei rifugi pelse ereggi scatari, mas lunis daglo tumbo fin finale en mai di 1255. La metà i san nato se dubris un de negociazioni franco-aragonesos. Los contats de Carcassuno, de Rases, dell'Auragues, Termes e Termenes, Lumen Herbes, e tabbede l'ai teros del Fenuliedes e Peiro Pertuses, autorecords possessius aragonesos, passano un ufficiale omen, gius legido franceso, pel Tractat de Corbeille, en 1252. Uno frontiero novello se dessenia sull'ai corbieros. A me cum avamposte, sull'aplano russelluneso, lo Fenuliedes, limite incambiato, fins alla signatura del Tractat de Spireneus, en 1659. Aquele annado, russelliu Regione França. Es en 1759 que los dos territorios son regrupats dans un metàis departomen e lo Fenuliedes ben atal un enclabolment un città entero catalano. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.